Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene! Oggi siamo qui in questo nuovo video e sì, oggi diremo addio a una delle motoseghe che ha fatto la storia di questo canale ma soprattutto ha fatto la storia nel suo settore ovvero la 372 XP di Uxvarna Con calma in questo video faremo una recensione e vi spiegherò anche il perché sono arrivato alla conclusione che è meglio venderla Giusto per rendere questo video un attimino più animato vorrei montare i ramponi e cambiare la catena e successivamente affilarla e nel mentre vi chiacchiero un po' questo video vi dico tutto quello che c'è da dire riguardo a questa motosega Allora, perché gli ho tolti questi ramponi? Non perché non vadano bene, anzi spettacolari Gli ho tolti perché questa motosega ultimamente l'ho sempre utilizzata per realizzare delle tavole quindi se avessi lasciato montati questi ramponi che comunque sono delle belle sberle avrei perso 5-6 cm di taglio che comunque è un po' Come si comporta questa motosega? Per farla in breve è effettivamente secondo me la macchina che rapporto prezzo potenza che ti offre è quella che ti dà di più All'epoca, cioè un anno fa l'ho presa proprio per questo perché era quella motosega che con all'epoca 900 euro circa l'avevo pagata una roba del genere tipo 950 giù di lì era quella che mi dà più cilindrato, più cavalli quella macchina che comunque ho sempre un po' cercato così da fare dei video un po' più intrattenitivi e poi utilizzarla anche per il taglio delle tavole e si è comportata estremamente bene tuttora funziona da dio l'ho utilizzata l'altro giorno magari vi faccio vedere anche qualche video col taglio di tavole anche abbastanza importanti nel senso che erano delle belle fette da 55 cm quindi insomma già un bel un bel lavorare poi tutta questa potenza effettivamente tutti me l'avete scritto nei commenti che per quello che devo fare qui nel bosco come dal punto di vista del taglio della linea è troppo effettivamente è vero è una motosega esagerata e questo l'ho spiegato mille volte però perché l'ho presa essenzialmente sì ok per il taglio delle tavole e tutto ma una motosega del genere fa spettacolo che è quello che mi serve su questo canale youtube cioè è come fare questo me l'aveva scritto anche qualcuno nei commenti ed è vero cioè ad esempio prendete gli youtuber che fanno video di auto cioè che auto hanno auto della madonna cioè in italia massimo legalmente in strada puoi andare a 130 in autostrada e prendo macchine che possono anche andare di più possono prendere la panda sì è la stessa cosa assolutamente no potrei prendere la motosega da 50 euro e fare i video sì è come utilizzare questa vestia qua assolutamente no chiuso questa parentesi di cosa possiamo parlare allora visto che ce l'ho in mano vi parlo del carter laterale che è tutto completamente in mi sembra magnesio sì tolgo la barra barra che non è una di quelle barre alleggerite scavate come possiamo adesso trovare su qualche modello top di gamma catena allora questa catena qua dopo vi faccio vedere qualche dettaglino è da buttare completamente smitragliata ho preso dei chiodi all'interno delle tavole e quindi è da buttare nel cesso il bello di questa motosega è che essendo stata progettata realizzata vent'anni fa non questo specifico modello ma la 372 nasce fine anni 90 è una roba simile inizio anni 2000 quindi una motosega che è stata diciamo ideata disegnata in un modo estremamente diverso rispetto a come vengono progettate adesso le motoseghe adesso le motoseghe professionali sono tutte ridotte all'osso tutte estremamente miniaturizzate per appunto ridurre il peso aumentare l'ergonomie e tutto e quindi un po' come diciamo la 500i diciamo è un po' l'apice di tutto questo ovvero una motosega che comunque devi trattarla bene tenerla sempre pulita stare attento al filtro e all'aria che si sporca anche un po' abbastanza facilmente mentre questa motosega effettivamente è un vero e proprio mulo da soma perché puoi trattarla male puoi sporcarla puoi anche evitare di fare mille casini cioè è proprio grezza come macchina è proprio un qualcosa di se devo trovare un modo per descriverla definirei proprio maschia cioè è un attrezzo puoi utilizzarlo come ti pare ovviamente io l'ho sempre trattata bene perché ovviamente preferisco tenere tutto con cura tutto ben pulito tutto bene adesso è un po' sporca perché l'ho utilizzata ieri però dopo con calma la pulisco non dico che sia indistruttibile perché non vorrei gufarla però è veramente una di quelle macchine che è alla fine famosa per la sua estrema affidabilità in ogni situazione in ogni contesto anche la zona del filtro e l'aria ha più o meno lo stesso principio di tutto il resto è tutto diciamo abbastanza sovradimensionato qua dentro insieme al filtro ci posso stare dentro anch'io e allora poi qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti mi ha chiesto se si poteva fare un confronto fra questa motosega e la mia 500i però non ha senso sono due motoseghe progettate come ho detto prima in anni completamente diverse con tecnologie totalmente diverse e non ha senso alla fine questa ha 4 kilowatt di potenza l'altra ne ha 5 ma anche qualcosa di più dopo le modifiche lo so sono alla metà del video ma se devo arrivare a delle conclusioni così affrettate questa motosega non la consiglio a tutti è una motosega che secondo me va data a qualcuno che sa utilizzare le motoseghe o che ha anche un minimo di esperienza perché questa motosega come prima motosega no se non hai mai avuto in mano una motosega e parti subito con questa ti fai del male cioè è come dire voglio andare in moto e inizio subito col 1200 cioè ti uccidi quindi si adesso mi sentite dire che è bellissima fantastica spettacolare è tutto bellissimo ma perché la vendo essenzialmente se vogliamo farla breve la vendo perché a me dispiace tantissimo avere mille mila motoseghe e poi ne uso solo due perché alla fine è così ne ho una da potatura una abbastanza grande per fare le cose un attimino più gravose e poi finisce lì la cosa avere mille mila cose in giro mi dispiace mi dispiace perché poi questa qui se ne sta ferma sullo scaffale prende la polvere e non mi piace nel senso lo trovo uno spreco e a me gli sprechi non piacciono quindi piuttosto che lasciarla lì così in quello stato la vendo a qualcuno che la utilizzerà a qualcuno che spero che si trovi bene per chi è intenzionato all'acquisto di questa motosega allora in vendita do la motosega ovviamente l'optional del full wrap ovviamente incluso metto anche il manubrio quello originale singolo così se uno vuole cambiarlo ce l'ha barra da 70 cm 28 pollici una catena che adesso è arrivata quasi alla fine che è la catena quella originale ecco questo vi fa capire quanto l'ho utilizzata alla fine ho consumato questa catena che è quella originale arrivata quasi alla fine come ho detto prima e questa qua col dente arrotondato per l'utilizzo delle alaskan mill questa l'ho utilizzata un giorno l'ho usata ieri e si è distrutta questo vi fa capire quanto l'ho usata effettivamente ed è per la macchina che è secondo me sono appena uscito dal rodaggio come ho detto prima la macchina è questa gli accessori sono questi in vendita prezzo è una motosega che da nuovo tutto quanto avevo speso un anno fa circa quasi attorno ai 1000 euro adesso questa motosega il destino ha aumentato leggermente qualcosa di più quindi sono arrivato a una conclusione che il prezzo di vendita ideale era attorno ai 750 euro che poi adesso ho deciso di abbassare perché ho notato un difetto abbastanza importante dal punto di vista estetico ma che dal punto di vista funzionale non è nulla di che ovvero qua c'è un grafio che me l'ha me l'ha fatto l'alaska 1000 sfregando essendo in contatto poi col calore e vibrazioni e tutto può darsi che mi ha ammaccato leggermente con la parte qua del blocco motore come ho detto prima dal punto di vista funzionale non succede nulla va avanti senza problemi però ecco è un piccolo difetto estetico che quindi ho detto c'è questo difetto lo dico nel video la motosega è questa funziona e tutto però eccolo tiro giù il prezzo di 50 euro almeno sono tutti contenti e non fanno storie quindi 700 euro metto qui sotto in descrizione il link del mio account di subito dove poi sarà anche in vendita questa motosega almeno lì trovati tutto quanto trovate la descrizione trovate anche delle foto e quello che è e niente su subito comunque metto in vendita tutto quello che non uso più o tutto quello che rimane fermo per mesi sullo scaffale quindi se volete comprare qualcosa da me lì trovate tutto quello che ho da vendere continuo il montaggio dei ramponi perché manca anche quello di destra sì comunque è infinita sta catena non finisce più quanti denti mancano a dare neanche tanti due distolato cosa dite ragazzi è affilata o non è affilata domanda delle domande tornassi indietro la riacquisterei sì o no assolutamente sì un anno fa questa qua era la motosega che potevo permettermi il budget era ovviamente ridotto rispetto a quello che ho il canale nell'arco di un anno è quadruplicato quindi i budget sono aumentati decisamente infatti avete visto gli ultimi acquisti che sono stati abbastanza importanti però per l'epoca per quello che avevo per quello che potevo permettermi questa era perfetta budget giusto sì costicchiava però non quanto quelle che ho preso dopo e in più di potenza ne aveva da vendere potenza che poi ho sfruttato nel fare qualche video nell'utilizzare l'Alaska 1000 che comunque un'Alaska 1000 la tiene poi ovvio dipende da cosa dovete tagliare dalle dimensioni però se dovete fare tavole da 40 cm ci sta ovvio più sali di potenza è meglio però già questa se non dovete fare tavole esagerate è una bella motosega è una motosega che consiglio solo ed esclusivamente a gente già preparata gente che non è alla sua prima esperienza come ho detto prima da una motosega che magari non consiglierei a un boscaiolo che la deve utilizzare tutti i giorni per quello secondo me può andare su motosega di nuova generazione che pesano di meno che fai meno fatica a portare in giro per il bosco questa la consiglierei magari a quelle giardiniere che magari si ritrova a dover tagliare pianti importanti quella volta ogni tanto che quindi serve un prodotto affidabile che magari anche se tiene lì fermo per un po' non ci sono problemi nel farlo ripartire anche se magari è un po' più pesante è un po' più ingombrante fa niente tanto lo devi utilizzare quelle due o tre volte e ci sta scendi un po' più con i costi ma è un qualcosa di abbastanza prestante ragazzi quindi non ci resta che ringraziarla per tutte le emozioni che ci ha regalato di ringraziarla per tutti quei momenti di ignoranza perché ci sono stati grazie 372 XP grazie anche a voi per la visione vi ricordo di iscrivervi al canale se volete acquistarla come ho detto prima link in descrizione o nei commenti detto questo grazie 372 XP e noi ci vediamo in un prossimo video grazie a tutti Grazie.